ciao ragazzi sono vanni maran in questi ultimi tempi si parla un sacco di coronavirus beh non fate come loro fate come me mandateli iscrizionale a livellaghi 2020 ci si vede in prova speciale ciao ragazzi sono andrea spataro questa mattina dopo vent'anni di amicizia ho dato per la prima volta retta al mio amico vanni abbiamo inviato l'iscrizione al rally dei laghi e io mi sto già cercando di scaldare un attimo per togliere la ruggine dell'inverno ci vediamo il 28 di marzo avarese vi aspettiamo